un altro dominio e siamo con un tizio di notorietà totale 2 quindi non so come andare a finire assolutamente perché dall'altra parte sono decisamente messi meglio come al solito il matchmaking non mi vuole bene che facciamo? per amor dell'intrattenimento non posso starmene qua convintissimo di aver fatto un peril continuo a pensare di avere la guardia giusta ma a quanto pare no fammi leggere dai ah e niente non l'abbiamo fatto in tempo comunque perché ha perso vita grandissimi qui è andato davvero bene siamo stati anche abbastanza bravi in realtà non è che sia tutta o sempre tutto merito degli altri non è anche servito ah mamma mia ma proprio ha salvato il culo il compagno di squadra che è arrivato lì sono stato un attimo in silenzio perché ero in dubbio ero un po' concentrato chi è che sta arrivando nessuno e quindi qua siamo in 4 senza motivo andiamo via always working e via anche questo eh come bello guardiamo quanto sei meta ragazzo mio è che non lo sapevo che avresti no non ha tutto questo range scusa eh scusa eh scusa eh poverino l'abbiamo rotto tre light parry gli abbiamo fatto arrivo sì sì cioè arrivo arrivo si minimo me lo consegno posso passare grazie sì vabbè cioè sei a metà di ammettazione potevi anche rianimarti da solo eh adesso non è che siamo a fine partita ah è tipo quello di livello 2 questo un sacco di punte abbiamo fatto siamo bravi siamo dei pro players vedete c'è solo intrattenimento di alta qualità in questo canale cosa credete sì è andata così andiamo ad aiutare il tizio là è da solo resisti resisti non prendermi sì 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 grazie facevi melo fare per favore è veloce la mia rinamazione vedete eh vabbè l'abbiamo prese più dei nostri i compagni di squadra che che da chi di dovere ma vabbè non importa ma volete vedere una bestemmia voi va chi se ne frega ma crepa ma crepa così e basta e chi tiene qua i punti devo ma no devono capire che sto facendo un video perché non lo capite capitelo per favore capivatelo tienilo tienilo mentre io faccio una cosa molto lenta chiamata rianimazione complimenti per avermi schivato tutta la mia combo mortalissima la mia best combo 2018 aia come al solito quando mai è arrivata la sciamana migliore del mondo che si merita di rubarmi tutte le uccisioni si mi ha buttato a terra come minimo voglio l'esecuzione grazie qua la missione di 600 non la volevo fare questo personaggio ma va fatti un giro va ah fai tu io faccio l'altro l'ora oh ma che è allora rocci allora rocci bene no 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 rimaniamo qua un secondo e ci facciamo i punti ragazzi non mi interessa tutto il resto non ha importanza ho sprecato una fiaschetta scusate come si scrive mi dispiace quella non lo vedete scritto perché ha tolto l'interfaccia quindi ecco qua ha fatto la missione di 600 si bene sono in rotta dai però andiamo a giocare chi se ne frega poi se si perde si vince quando mai è importato qualcosa no no hai perso la zona C e niente l'hanno bombardato cioè vabbè e niente al prossimo video ragazzi eccovi il dominio che guardiano con un bellissimo score di 12-0 insomma modesto modesto alla prossima ciao